accendiamo il microfono, eccolo qua, piccolo test prova della nuova applicazione Spreaker per iPad, se non lo sapete sappiatelo, è uscita l'applicazione Spreaker per iPad, questo se va anche in 3G, questo non lo so, però non avrebbe senso, forse così mettiamo questo, vediamo se lo fa, te pareva, intanto mi scrive Daniele, te pareva che non andava subito in onda da iPad, Daniele, è una piccola prova, se sei comodamente a casa non stai per andare a letto, farei anche quella roba lì, io sono sveglio, altrimenti lo faremo un altro giorno, piccola, era proprio una prova velocissima, velocissima per vedere va bene, thank you very much, arrivederci, un saluto, per ricordarvi che esiste la app per iPad di Spreaker